Radio Ritrato Pennellate dal mondo VIP Le interviste di Globus Radio Station Ben trovati cari amici di Globus Television da Antonella Guglielmino E Onia Nicolosi Buon pomeriggio, sembrava quasi che fosse arrivato l'autunno, invece? Invece, sì, un pochino fa freddino, la mattina noi facciamo... no Onia... va bene Noi sembriamo ogni volta, diamo diciamo le condizioni meteo, però secondo quello che noi sentiamo Cioè non sono molto scientifiche La percezione è la percezione che noi abbiamo del tempo Del caldo, del freddo Io per esempio... Tu stai squaggando, va bene Diciamo che è un leggero caldo, ma sono pronta ragazzi, ve lo voglio dire Perché è una puntatona Certo Sovraffollata Intensa, ma ce la faremo come al solito Vi presento subito i nostri ospiti Abbiamo qui con noi Carmen Fontanarosa, grazie di essere qui con noi Angela Dispinzieri, vocal coach, grazie Salve La professoressa Roberta Rapisardi, grazie Grazie Il professor Massimo Missiato, grazie di essere qui con noi Tutta questa bella gente è qui perché giorno 30 settembre alle ore 21 al teatro Metropolitan andrà in scena cosa? Il Sirano, poesia che brucia dentro me, musical inedito tratto dal Sirano de Bergerac Ecco, i professori che sono qui presenti ci spieghi un po' come è stato messo su questo progetto? Sì, allora il progetto Sirano appunto come già anche in passato se ne è potuto parlare Un progetto che ormai ci ha seguito da ben due anni Ha dato spazio ai giovani nel campo della formazione artistica Quindi teatro, canto, musica, tecnici dello spettacolo E grazie anche alla collaborazione con il liceo artistico Lazzaro E quindi al progetto di alternanza scuola lavoro abbiamo potuto inserire e quindi coinvolgere la scuola Per la realizzazione delle scenografie del musical, le attrezzerie e tutto ciò che si potrà vedere sul palco Quindi bozzetti, insomma, ecco Quindi diciamo è stato un bellissimo percorso, una bellissima conoscenza fatta con questi cari amici Perché sono veramente delle persone splendide Che ci ha accompagnato, diciamo, con loro un annetto Ecco, il tempo proprio di realizzare tutto l'occorrente E che sicuramente per i ragazzi della scuola Loro potranno ora parlarne più approfonditamente È stata un'occasione per mettere in pratica qualcosa che loro già studiano Ovviamente nel loro percorso scolastico Ma vi sentite pronti? Guarda, noi diciamo che ci sentiamo pronti Perché secondo me dopo due anni di progetto Tanta formazione, tanta costruzione Diciamo davanti alla scena e dietro alla scena Il musical sarà soltanto la conclusione di questo bel progetto E ci teniamo a dire che siamo pronti Perché c'è stata una squadra talmente bella Che ha collaborato insieme tantissime persone professioniste Che hanno condiviso con noi questo percorso Che hanno dato il meglio di sé Quindi quando è così diciamo che si può essere solo fiduciosi Quindi loro non solo sono pronti ma non vedono l'ora Ora c'è proprio questo, c'è proprio la voglia di andare sul palcoscenico E di dire ecco questo è stato il nostro lavoro Carmen vogliamo ricordare la scuola? La scuola nostra Accademia è l'Accademia Nota International Academy Che ovviamente grazie all'Associazione Meridies Ha portato avanti questo progetto E nella sede dell'Accademia sono stati svolti La maggior parte dei percorsi formativi E quindi diciamo ancora grazie Insomma a questa realtà Allora Angela cosa fa una vocal coach In questo spettacolo Cioè spiegaci cosa fai tu Allora la vocal coach innanzitutto si è occupata della formazione Dei ragazzi che appunto si sono presentati E che poi sono stati scelti per far parte del progetto Sirano Quindi io è da due anni che insomma Insieme a Laura Tornambene Regista e autrice del musical Insieme a Giovanni Domenico Di Naccio Compositore e coautore del musical Insieme alle coreografe Insomma sono due anni che ci occupiamo Della formazione di questi ragazzi E adesso nello specifico Quindi durante le prove ci siamo occupati Di integrare appunto tutti gli altri componenti del cast E di mettere su questo musical Con molti brani Quasi 49 se non ricordo male Sono tanti Sono tanti Molti dei quali sono in polifonia Con tre, quattro voci per ogni brano Si è divertita insomma Sì tantissimo Una sfida Anche chi cantava penso Anche chi cantava Che non è solo un cantante Perché nel cast ci sono attori Che chiaramente sono dovuti diventare cantanti E cantanti che sono dovuti diventare anche attori Perché il musical è un completamento di queste tre discipline Che sono teatro, canto e danza Da quante persone è composto il cast? Da 33 performer Quindi insomma voglio dire è bello affollato Il palcoscenico sarà sicuramente pieno Sì 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 Inoltre faccio pure perché vabbè Mi piace complicarmi la vita E soprattutto piace a lei Sì quindi sono nel cast Con un ruolo che non vi svelo Perché così vi lascio nella suspense Dovrete venire a vedere per capire chi sono in realtà Hai capito? Non è così Questo è marketing No Assolutamente Non si chiama marketing Cosa dici? Assolutamente Assolutamente Angela ma tu insegni a questi ragazzi Come si modula la voce? Allora io insegno Sì Una tecnica vocale Che si chiama Estil Voice Training Che è una tecnica americana Basata sull'utilizzo della voce Quindi è un percorso Che non può Non necessariamente Devono fare i cantanti Ma che possono fare Tutti coloro che utilizzano la voce Nel lavoro Nella vita Quindi lo fanno logopedisti Lo fanno doppiatori Insegnanti Che parlano per 10-11 ore al giorno E che hanno necessità di controllare E di non perdere la voce Ecco Come lo capisco È interessante E inoltre E inoltre Chiaramente per i performers Devono chiaramente Compensare Cioè È tutto un percorso Che riguarda sia la tecnica Ma anche lo stile E l'interpretazione Perché Chi è solo tecnico Non arriva E chi è solo Interprete Non Sbagliare Cioè Rischia di sbagliare Quindi il cantante O il performer In questo caso È proprio il connubio Di tecnica Stile E interpretazione Ma che meraviglia Guarda Non è una cosa semplice Voglio dire Assolutamente no Detta così Assolutamente no Forse lo sembrereà Però non lo è No Decisamente no È anche un problema di respirazione Eh sì Io con il mio lavoro Che parlo molto Tanto Faccio telegiornali Faccio servizi in esterna Faccio trasmissioni Poi c'è un periodo dell'anno Che io sono praticamente Senza voce Sì Per non parlare Io ti racconto Che noi il 31 dicembre Di mattina Facciamo una trasmissione Che inizia alle 9 E finisce a luna Tipo 30 ore per la vita E sette giorni Parliamo tutte queste ore Alla fine Io sempre il giorno di Capodanno Non ho voce Eh sì Quindi capisco benissimo Professoressa Ci racconti questa alternanza Scuola-lavoro Allora guardi L'alternanza scuola-lavoro È una grande opportunità Per i giovani Che si approcciano Al mondo del lavoro Dopo l'esame di maturità Questo vale Per tutti quelli Che affrontano L'alternanza scuola-lavoro In tutte le scuole Le tipologie di scuola Nella nostra scuola In maniera particolare Perché è un museo artistico È chiaramente Perfetto Per quanto ci riguarda La nostra esperienza Appunto Nel preparare Sirano È stata Umanamente Meravigliosa Perché poi Comunque Molto aggregante Non solo Tra i ragazzi Perché parliamo Intanto di un'esperienza Comunque curriculare Quindi Curriculare Ma diversa Dalle solite Lezioni curriculari Che si fanno Dietro il banco Quindi Aggregante Da morire Ma anche Tra docenti E ragazzi Veramente Voi avete fatto Le scenografie No? I ragazzi Fanno Tutto Sulla guida Certo Per esempio Il professor Iniziato Ha curato Con i ragazzi Le scenografie Noi Nel mio gruppo Perché poi Di fatto Ci siamo divisi In gruppi Perché avevamo Tre classi La terza La quarta E la quinta Mi pare No Erano terza Quarta Di architettura E la quarta Di scenografia Esatto Quindi per esempio I ragazzi Che ho curato Io Con i ragazzi Abbiamo fatto Tutte le scene Teatrali Invece poi Il professor Mi è stato Ci occupato Di altre cose E il professore Mario Rocca Invece Ha curato Tutto il praticabile Le norme praticabile Che è una cosa Meravigliosa Cos'è? Vi prego Di venire Il giorno Cos'è le norme praticabile? Cioè spiegateci Non diciamo più di quanto Non sia strettamente Indispensabile Ho fatto una domanda Che non dovevo fare Praticabile nel senso Che ci si può camminare? Quello proprio Come termine tecnico Naturalmente Così ci sono andata Per in tutto Perché veramente Perché prende tutta la scena Ma comunque Voi venite Certo Saremo lì presenti Sicuramente Per me Che è stato Il primo anno Che ha seguito i ragazzi Di alternanza Scuola-lavoro È stata un'esperienza Bellissima Professore Misiato Avete Con i suoi ragazzi Avete insomma Dipinto I fondali Allora In realtà È sempre Nell'ottica Di dire Quanto è Estrettamente Necessario Dunque E in questi sguardi Cioè corrono C'è stato un lavoro Coordinato da loro Splendidamente In cui I vari gruppi classi Inizialmente Si sono occupati Ognuno Del suo Diciamo Infatti Roberta Ha seguito soprattutto L'attrezzere di scena Tutta una serie di elementi Che serviranno Cerco di dire Meno cose possibili Io col mio gruppo classe Prevalentemente Ho curato Tutti quanti I fondali E Beh Quello lo possiamo dire Dai Andremo comunque Più di proiezione Sono i bozzetti Che poi verranno proiettati E o Retro proiettati Quindi Anche un'esperienza Che dal punto di vista Delle tecnologie Per i ragazzi Può essere molto interessante Perché poi vanno a vedere Proprio qual è l'effetto Il risultato Forse i problemi Anche Tecnici Rispetto a come deve essere fatto Un determinato bozzetto Se deve essere poi proiettato E appunto Mario Rocca In particolare Con la sua classe Invece ha seguito più La realizzazione Del famoso praticabile E poi in realtà Appunto come diceva Roberta L'evento è stato aggregante Perché ci sono state cose In cui non si capiva più Questo qua La fa la tua classe La mia classe C'è stato questo collaborare Nei limiti di quanto si può fare All'interno di una scuola Che è stato molto bello Poi insomma Questo è il fronte scenografie C'è stato anche comunque Un apporto anche Da altri indirizzi Ma forse ne può parlare Meglio Carmen Perché ha avuto Una relazione Più diretta Con i colleghi Degli altri indirizzi Infatti C'è stata anche La collaborazione Da parte Della quinta Di audiovisivo E multimediale Che è coordinato Appunto L'alternanza Dalla professoressa Donata Musumeci Che ci tenevo Insomma a citare Loro invece Hanno seguito La parte proprio grafica E quindi La nostra locandina È il risultato Di un'attenta Preparazione E poi Insomma Il disegno È stato elaborato Proprio da una ragazza Della classe Luana Motta Che ha realizzato Utilizzando Tutte le tecniche Possibili Immaginabili Della grafica Per realizzare Secondo me Questa splendida Locandina Che per me È veramente Un dipinto Cioè È proprio Molto bello E Diciamo Artisticamente Di valore Ecco Caro Sirano è un classico Cioè Ormai In teatro Diciamo Fatto Ripetuto Più volte Tra l'altro Ultimamente Il Preziosi Che devo dire Merita Bravo e bello Alessandro Come mai Cioè Voi siete andati Sul sicuro Perché sicuramente È un classico E quindi attira Ma come mai Proprio Questa scelta Ce ne sono tanti Sì Guarda Il Il Sirano Diciamo Il Sirano È nata appunto Da questa discussione È Volontà Da parte nostra E da parte del Compositore Di realizzare un musical Si parlava circa Cinque anni fa Ma Scriviamo un musical Si compone Si realizza Ma quale personaggio Allora Si è andato All'idea appunto Del Sirano Perché È un personaggio Secondo me Splendido Dove All'interno Della sua Persona Sono Avvolti Tantissime Tantissime Sfaccettature Della Umane E quindi L'amore La voglia Di non scendere A compromessi E quindi Mantenere Fedele Anche Mantenersi fedele Anche nei riguardi Dell'amicizia Quindi tantissimi valori Tantissimi valori Allora questa figura Secondo noi Poi uno spadaccino Poeta Musicista Insomma No musico No astronomo Insomma era un po' tutto Sirano E quindi secondo noi Insomma poteva essere Un personaggio Veramente Poteva calzare A pennelli E poi tra l'altro Proprio quest'anno Compia 120 anni Il Sirano Dal suo primo Debutto In teatro Quest'opera Imponente Di 5 atti Che è stata Magistralmente Ridotta Dalla nostra Autrice E regista Laura Tornambene Che meraviglia C'è qualcuno Da dietro le quinte Che mi sta facendo Dei segnali di fuoco Quindi diceva Tutti e tre insieme Facciamo 120 anni Non sono d'accordo E va bene così E capita Penso che nessuno di noi È un disturbatore Che noi non ascoltiamo Io non conosco E soprattutto Diciamo che abbiamo Però 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 Gli somiglia Sì infatti Diciamo che gli somiglia Va bene Ok Pazienza Capita anche questo Come professori Quando vedete Che i vostri alunni Mettono in pratica Tutto quello Che voi avete insegnato E danno corpo A tutti i vostri insegnamenti Poi come insegnanti Sicuramente Vi sentirete realizzati No? È il massimo Del raggiungimento Della nostra professione Su questo non ci sono dubbi Io Riguardo all'alternanza Scuola-lavoro Ci sono state tante critiche C'è chi è favorevole C'è chi non lo è Una cosa è certa Lasciando stare le critiche Che sicuramente ci stanno Però probabilmente Specialmente per i ragazzi di oggi Che sono alquanto Derresponsabilizzati Probabilmente un lavoro del genere Invece aiuta Un po' A metterli A renderli protagonisti E comunque responsabilizzarli Allora io Non credo No? Non sei d'accordo? Secondo me i ragazzi Non sono per niente Derresponsabilizzati Assolutamente Sono dei luoghi comuni Non si può generalizzare Ci sono dei ragazzi Veramente Con la testa sulle spalle Poi certo C'è sempre Quello che Ma in linea generale Sarà che noi siamo troppo No troppo Noi siamo sempre A contatto con i ragazzi Insomma Poi la verità è questa Se tu dai molto Ricevi molti Molto più di quello Che tu Speravi di ricevere Da ragazze Ma questo è L'esperienza La mia esperienza I ragazzi comunque Sono generosi Comunque Ma tutto Sta lì Se tu dai molto Loro Ti restituiscono Tu non lo pensi Sì No sono d'accordo Lui è critico della situazione L'impressione No no Sono assolutamente d'accordo Io penso che più che dare a noi Queste esperienze Abbia data ai ragazzi Perché Sì anche per noi È un arricchimento Anche personale Professionale Però è proprio il bello Dell'alternanza scuola lavoro Quando si creano le condizioni Affinché diventi un evento virtuoso Perché appunto Meglio non aprire le polemiche Perché potrebbero essere interminati Davvero potrebbero non terminare mai Però io credo che Nel nostro tipo di scuola Quando si trovano le persone giuste Invece Può creare L'alternanza scuola lavoro Credo possa creare Un ottimo Un ottimo presupposto Affinché i ragazzi Possono misurarsi con se stessi Dimostrare Che hanno più sostanza Appunto Di quanto spesso Si voglia pensare Che questi ragazzi Magari Non hanno davanti Un panorama Tra i più rosei E quindi Decisamente no Nel loro piccolo In questo momento Forse grazie all'alternanza scuola lavoro In un caso come questo Potrebbero anche Guardare avanti Con un po' più di fiducia Esatto Di speranza Sì sicuramente Certo Voglio dire Siamo in un periodo In cui Specialmente insomma Le maestranze Insomma Non è che godono Di buona Di buona salute Decisamente no Tutte le vicende Del teatro massimo Insomma Stipendi non pagati C'è tanto Sicuramente Diciamo che È una sfida Anche quella Per il futuro Sì perché Il mondo che Dovranno affrontare È difficile Qui hanno la possibilità Di misurarsi Intanto con le loro competenze Con la loro voglia di fare Senza Dovere fare i conti Con altri aspetti A cui dovranno pensare Per loro fortuna Fra qualche altro anno Carmen Purtroppo Il nostro tempo A disposizione Si è concluso Angela Cortesemente È a disposizione La telecamera Tu con la tua voce Lancia l'appuntamento Per sabato 30 Allora Io vi invito A venire Ad assistere Alla prima Assoluta Di questo musical Inedito Sirano Poesia che brucia Dentro me Non perché L'abbiamo fatto noi Ma perché Secondo me Veramente merita Di essere visto Grazie 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 ai nostri ospiti Grazie a voi Grazie professoressa Grazie professore Missiato Grazie Angela Di Spinsieri Grazie Grazie Mi sono anche impappinata Grazie Carmen Fontanarosa Noi ci vediamo Tra un po' Perché adesso c'è C'è un passaggio di testimone Dai a dopo Ciao Stanchi dai soliti problemi condominiali? Affidati ad uno studio di amministrazione condominiale professionale Lo studio SAC di Continuo Filippo & Partners offre professionalità, competenza, organizzazione e trasparenza nella gestione condominiale SAC per amministrazioni di condomini di immobili, immobili privati, società ed enti SAC di Continuo Filippo & Partners lo trovi a Largo Rosolino Pilo 39D, Catania Per contatti telefona allo 095 44 94 60 O puoi inviare una mail a info-sac-di-contino.it Il tuo condominio in mani sicure Clicca domusbet.it e scopri un mondo di promozioni Gioca al Casino 20+, per te un bonus speciale se l'importo delle perdite è uguale o maggiore a zero Con Poker 30+, ti rendiamo la rake e poi ti restituiamo il 15% delle tue perdite mensili sulle scommesse sportive Per sempre, diventa partner Domusbet, chiama all'800 181 980 Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può provocare dipendenza patologica Domusbet.it, per noi è tutto un gioco Domusbet.it, per noi è tutto un gioco Abbiamo fatto un cambiamento così perché noi oggi vogliamo divertirci così, vogliamo cambiare Perché siccome ci piacciono le cose facili Semplicissime, vabbè ma noi siamo abituate dai Ecco noi siamo delle donne forti, pronte ad affrontare qualsiasi situazione Adesso non avete le traveggole, no sono proprio cambiati gli ospiti Parliamo della stessa cosa Ve li presento immediatamente, allora abbiamo Giacomo Buccheri, grazie di essere qui con noi Grazie a voi Che andrà in scena giorno 30 settembre alle ore 21 al teatro Metropolitan Mentre Di Naccio è il compositore, il coautore, insomma di tutto e di più Giusto? Sì, in pratica questo è un progetto che sulla carta da punto di vista pratico è cominciato più di due anni fa, però già l'idea nacque molto addietro circa cinque anni fa nel 2012 Quando così anche senza credere effettivamente che sarebbe diventato un qualcosa veramente di coinvolgente Appunto per tutti questi giovani e questo diciamo è anche la soddisfazione è il risultato più grande Di portare avanti insieme questo musical, questo progetto Anche perché alla fine la musica, il fine della musica è anche la comunicazione, il comunicare Quindi se si raggiunge questo già abbiamo raggiunto il fine principale anche della musica Giustissimo, Giacomo tu interpreti? Sì Rana Oh mio Dio Allora lui dice, però insomma diciamolo è il figo della situazione Ecco, ora sei più tranquillo Lui un po' adesso ci, però Ma lui interpreta Cristiano Lui è il bello Lui è il bello Infatti Senti, quando ti sei accostato un po' al mondo del teatro? Uh, il primo accostamento è stato quando avevo dodici anni in realtà Come mai? E a scuola, al laboratorio teatrale, il mio insegnante di musica disse Fai le audizioni, perché era un musical appunto, era gris, feci le audizioni, mi hanno preso, mi presero E feci un primo ruolo lì in realtà L'anno dopo mi hanno proprio chiamato su parte per fare il Che Guevara in Evita Quindi da lì ho detto, forse devo fare questo Forse nella vita devo fare questo Il rivoluzionario Il rivoluzionario, esatto Poi in realtà chiaramente ho integrato, ho studiato seriamente Continuato con la musica Io comincio come cantante in realtà Ho integrato col teatro, ho fatto un'accademia di musical theater, c'è teatro musicale Facendo anche danza Anche? Per fortuna qua non danzo però Ecco In questo spettacolo E niente, ho fatto tante cose diverse Finalmente un personaggio di cui mi piace tutto Vabbè certo Ho fatto tante cose belle, ma qui veramente Sirano è Meraviglioso Penso sia il ruolo più ambito della storia del teatro, quindi mi sento molto molto fortunato Sì, diciamo un uomo che nella realtà non esiste No, decisamente no Però grazie al teatro Io sono un ottimista Però è esistito È esistito È esistito, sì È un tempo C'è sempre il disturbatore C'è sempre il disturbatore Che dice io una volta ero Ero anch'io Non ci credo molto Però vabbè Diciamo così Lasciamoglielo credere per un attimo Perché no Le Rosse Rossana Tu interpreti invece Rossana Esattamente Quindi sono in mezzo a questi bonaccioni qui In realtà io sono la piccoletta sia come età che come esperienza Perché ho frequentato l'anno di formazione all'interno dell'accademia di Carmen appunto Not International E hanno pensato bene di accollarmi il personaggio di Rossana Che anche lei è una tosta Perché ha un po' un aspetto di cristiano E un po' anche di sirano Quindi È una un po' poi dalle idee un po' confuse No? È un po' come nella vita Diciamo che non mi viene proprio difficilissimo Ecco Non mi è Cioè non mi è stato proprio difficile capire effettivamente come fosse Rossana Perché è un po' fuori di sé come me nella vita Sì esatto Però sicuramente è una bella esperienza Sto imparando un sacco un sacco di cose Ma da loro perché hanno un'esperienza pazzesca Quindi io cerco di rubacchiare un po' qui un po' lì Spero che hanno 60 anni Guarda noi in tre facciamo 120 Quindi Eh beh sì sicuramente rispetto a me hanno un sacco di esperienza Quindi sicuramente non smetterò mai di ringraziare Laura Tornambene Il maestro Esatto che è appunto la regista dello spettacolo Per avermi permesso di salire su Cioè che mi permetteranno Sto sudando Non toccarti il microfono Ecco Dai Ops Cosa stavo dicendo? Che ti hanno permesso? Sì che sono veramente fortunata Perché appunto si stanno fidando di me Ma tu nella vita cosa vuoi fare? Allora io nella vita voglio fare la cantante Ecco Sicuramente dicevo questo l'altro giorno a Giovanni Un giorno riempirò San Siro Eh certo mi sembra anche giusto Allora Bisogna avere i sogni Quando si sogna bisogna sognare in grande Sempre Sono d'accordo Devo dire che in tempi non sospetti Entrando al Metropolitan E dissi ma chissà se un giorno ci starò io lì sopra Hai visto? Ed eccomi qua Quindi chissà magari se lo dico Alla fine mi impegno Ce la faccio Quanto sei emozionata? Un pochettino? Allora sicuramente sono super felice E non vedo l'ora davvero di salire su quel palco E dimostrare che hanno fatto bene a fidarsi di me Sicuramente mi sto levando la vita Questo è chiaro Però sono tanto felice Tanto emozionata Lo sarò sicuramente anche sabato Morirò dietro le quinte Adesso sto studando ma lì proprio sarò morta Ma non è vero Non è vero Però sarò troppo felice finalmente Di rimettere proprio il mio piede finalmente lì sopra C'è l'altro tuo uomo Che annuisce Perché? Perché in qualche modo condivide quest'ansia No più che ansia Condivido questo desiderio fortissimo Di salire su quel palco E di far vivere questa storia Perché alla fine il teatro questo è Raccontare delle storie E noi attori dobbiamo regalarci interamente al nostro personaggio Per far sì che quella sera Possiamo dare al pubblico il migliore spettacolo di cui siamo capaci E quindi dopo un mese di prove molto intenso Molto impegnativo Emozionante Io adesso ho una voglia infinita di salire lì e far vivere questa storia Anche prima insomma che c'è questa voglia di salire sul palco Questa febbre che vi brucia Sì assoluta Che c'è sempre devo dire Io faccio questo lavoro ormai da qualche anno C'è sempre Però stavolta Non lo so C'è una magia particolare Più forte Sarà che non capita così spesso di lavorare in compagnie così numerose Cioè è così fresca Perché quasi tutti gli interpreti sono giovanissimi Alcuni sono minorenni Cioè sono proprio piccoli ragazzini Che stanno Che hanno questo grandissimo sogno E hanno un talento veramente Io parlo per tutti gli altri perché non posso parlare di me Ma tutte le cose che vedo fatte da ogni singolo componente di questo cast Mi sembrano assolutamente perfette E quindi l'entusiasmo che ne viene fuori è poi quello che ti porta a dire Dai quando arriva il 30 che voglio salire là sopra e fare di tutto Che meraviglia Vinaccio scusami ma come li avete scelti questi ragazzi? In base a cosa? Allora abbiamo fatto delle audizioni in pratica Diciamo che si sono svolte in diverse sessioni E quindi abbiamo cercato di coniugare vari aspetti Perché anche non è facile trovare ragazzi giovani Che sappiano allo stesso tempo cantare, recitare E anche muoversi sul palco E anche danzare nella maggior parte dei casi Magari i protagonisti principali lo faranno un po' di meno Ma anche loro saranno coinvolti In delle scene molto avvolgenti Fisiche Avvolgenti Avvolgenti e fisiche Preparatevi al peggio Perché sicuramente ci sono In Sirano ci sono molte situazioni Che anche vanno Diciamo Dall'amore Dall'amore Dalla passione Dal coinvolgimento Emotivo E quindi anche fisicamente Io penso che sia Penso, dico perché non sono io coinvolto in prima persona Ma sicuramente loro saranno Protagonisti Non solo col canto Ma anche col corpo Con l'espressione Diciamo In toto della persona Abbiamo detto che il teatro regala emozioni Maggior ragione quando c'è anche la musica, no? E la musica E appunto Il compito principale Secondo me Della musica È dare emozioni E quando si Si comunica Si parla Se non si riesce a farsi comprendere A farsi capire Diciamo Abbiamo fallito in partenza E appunto Il compito principale della musica È proprio questo Quindi cercare di Di dire qualcosa E di dirlo col suono Ma Non Diciamo solamente Da punto di vista tecnico Diciamo che ci vuole anche Perché Justamente lo studio La tecnica ci vuole anche Ma E soprattutto Da punto di vista Emotivo E emozionale Cioè Sapere cogliere E Sopportare Da punto di vista Anche musicale Gli aspetti che poi Devono essere messi in scena Sulla Le canzoni tra l'altro Sono tante Abbiamo detto quanto 49 49 49 Sì musiche in generale Non tutte cantate Sì 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 Diciamo Poveri ragazzi Ti sei dato Alla pazza gioia Diciamo di sì Ah Anche noi Sì loro sono contentissimi Mi dispiace Per me Loro sono un po' meno contenti Diciamo Tu hai liberato la tua vena Va bene che in alcuni casi Non si canta sempre Meno ma ci sono alcune sezioni Poveretti se no scusami E sono strumentali Va bene ok Andiamo in pubblicità E ci vediamo subito dopo A dopo Stanchi dai soliti problemi condominiali? Affidati ad uno studio di amministrazione condominiale professionale Lo studio SAC di Contino Filippo & Partners offre professionalità, competenza, organizzazione e trasparenza nella gestione condominiale SAC per amministrazione di condomini di immobili, immobili privati, società ed enti SAC di Contino Filippo & Partners lo trovi a Largo Rosolino Pilo 39D, Catania Per contatti telefona allo 095 44 94 60 O puoi inviare una mail a info-sac-di-contino.it Il tuo condominio in mani sicure Clicca domusbet.it e scopri un mondo di promozioni Gioca al Casino 20+, per te un bonus speciale se l'importo delle perdite è uguale o maggiore a 0 Con Poker 30+, ti rendiamo la rake E poi ti restituiamo il 15% delle tue perdite mensili sulle scommesse sportive Per sempre diventa partner Domusbet Chiama all'800 181 980 Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può provocare dipendenza patologica Domusbet.it Per noi è tutto un gioco Raioritratto pennellate dal mondo VIP Oggi una puntata speciale, parliamo del Sirano che andrà in scena il 30 settembre Alle ore 21 al Teatro Metropolitan Abbiamo avuto una prima tranche di persone Ci hanno parlato un po' dell'alternanza scuola-lavoro Della project manager dell'Accademia Not International Abbiamo avuto Andrea Di Spinsieri E ora abbiamo i ragazzi e il compositore Mi sembra anche giusto, no? Lui intanto si prende i ragazzi E si sta un ragazzo cresciuto Un ragazzo cresciuto Ma perché lui si mantiene giovane proprio attraverso la musica E perché sta a contatto con i giovani Mi chiedo, avete già fatto la prova al Metropolitan? No Oggi per la prima volta mettiamo piede al Metropolitan Quindi proprio fresco, fresco Appena finiamo qui, scappiamo Ma visto che voi siete tre personaggi veramente tanto simpatici Proprio ispirate così simpatia Lui no? Aneddoto No, lui è grande I tre protagonisti Qualche aneddoto carino quando ci sono le prove Perché ce ne saranno tanti, sicuramente Lui non c'è, lui non c'è Lui non c'è Lui non c'è Sono tanti E cioè, non fate voglio come uno sempre guai Ogni volta che racconto aneddoti racconto cose veramente Vabbè, ieri è caduta per esempio Esatto Dovevo prendere Cristiano Anziché prendere lui Hanno dato aiuto a me praticamente Ah, ho capito Niente, la tragedia E anche lì Ecco, quando capita una cosa del genere, no? Che in qualche modo si fissa nella memoria quell'avvenimento Poi quando si è in scena magari Si ha la paura che succeda, certo Non solo che succeda, ma ricordare quel momento magari viene da ridere In genere dovrebbe, dovrebbe essere Diciamo che vince la paura Voi cosa fate? Vi concentrate? No, vabbè, ieri davvero sono caduta Ma di sera, tornando a casa Ma perché mi fanno male le ginocchia? Effettivamente non riuscivo neppure a collegare l'accaduto Cioè avvenuto nel pomeriggio Quindi questo dimostra che effettivamente anche se capita magari l'incidente di percorso Ma effettivamente quando sei lì sulla scena non ci pensi più Cioè pensi Eri talmente concentrata Ma sì, sì, cioè il tuo personaggio non ci pensi più a Certo Ma lui è presente durante le prove Ma lui chi? Lui La presenza legge Ah, la presenza Giovanni Domenico è presente alle prove È stato presente nella prima fase e poi è tornato oggi Cioè l'abbiamo incontrato qua davanti No, era presente la sua musica Beh, la sua musica era presentissima È stato presente con noi per un anno intero Adesso infatti vediamo l'ora di fargli vedere quello che abbiamo fatto Certo, sicuramente Purtroppo mi è dispiaciuto moltissimo Perché per motivi di lavoro mi sono dovuto assentare Sono andato al nord, sono tornato appunto solamente ieri E quindi diciamo però c'è questa adrenalina appunto che Che comunque farà in modo di riprendere il tempo perduto Appunto di riguadagnare ciò che si è perduto Anche grazie al loro affetto Anche alla loro stima Certo Che è una cosa diciamo veramente gratificante Ma poi scusami Quando tu senti la musica La musica comunque l'arrangiata Le canzoni C'è una parte di te comunque, no? Eh sì Io dico spesso che è come un figlio Cioè nel senso che è sempre una parte di te Ti somiglia non dai caratteri somatici fisicamente Ma dai caratteri diciamo interiori Nell'anima Perché appunto è il tuo essere che parla attraverso la musica E quindi una volta lo dissi anche a loro In una serata erano insieme a cena E gli dissi che se voi apprezzate la mia musica Apprezzate anche me E per questo diciamo è Come dicevo prima È un aspetto veramente gratificante per la mia persona Certo, ci mancherebbe Vi ringrazio anche Dopotutto anche per il loro impegno Ma li hai bacchettati per qualcosa? Ma forse riguardo appunto alcune lezioni Che sono state fatte in precedenza Riguardo l'aspetto corale Noè mi sta sorridendo Significa proprio No perché io ho altro che se devo essere bacchettata Perché lei faceva parte diciamo del coro A cui hanno preso parte diciamo tutti gli artisti Che poi saranno sul palco Abbiamo curato gli aspetti Riguardanti la polifonia Che accompagnerà in alcune parti del musical Appunto sarà da contorno alla scena Ho capito Allora noi siamo sicure Cioè proprio che sarà un successone Quindi questa cosa Ci saremo Ci saremo Ci sarà pure il nostro cameraman Ecco ora quello che voglio dire io Siccome sarà un successone Cosa prevede dopo? Ci saranno È prevista non lo so Una tournée per esempio In giro? Guarda come si guardano Non lo sapete Forse avrei dovuto chiederla a Carmen Noi possiamo sperare che ci sia Me la tengo questa domanda E prima o poi la farò anche a lei Chiaramente il progetto appunto Come l'ha credo già detto Carmen Prevedeva come ultimo passo L'allestimento di questo 30 settembre E dopo E dopo Da noi si dice Tutto ad entrare E infatti Così E su queste frasi Ti diamo il saluto E noi ci vediamo La prossima puntata Grazie ragazzi Grazie alla prossima Ciao Ciao Radio Ritrato Pennellate dal mondo VIP Le interviste di Globus Radio Station